Quel brutto sparti traffico della malora. Torniamo ancora una volta in strada postumia richiamati a furor di popolo. Sì perché dopo i nostri servizi in cui abbiamo denunciato la pericolosità di queste isole di cemento in mezzo a una delle arterie più trafficate della città, continuano ad arrivare in redazione telefonate, email, segnalazioni di cittadini e automobilisti che appoggiano la nostra proposta e chiedono di eliminare o almeno modificare lo sparti traffico maledetto, come lo definisce questa lettera, l'ultima che abbiamo ricevuto firmata da un residente di Monticello Conteotto. Vedete è stata inviata al sindaco di Vicenza Achille Variati e per conoscenza anche a noi di Rete Veneta. Come dimostra la data di protocollo questa missiva è stata presentata in comune a Palazzo Trissino il 21 di marzo. Chi scrive si lamenta di essere una delle tante, troppe vittime dello sparti traffico, un trabocchetto dice, soprattutto alla sera, con i fari delle vetture provenienti in senso opposto o con la pioggia. Il nostro telespettatore, venuto a conoscenza di molti incidenti accaduti ad altri automobilisti nello stesso identico punto, allega anche il conto dell'autofficina dove ha portato a riparare la sua auto, finita nello spigolo del cordolo, come si vede nella fotografia. Insomma, non ci sono dubbi, questo sparti traffico non è funzionale alla sicurezza ma al contrario, è una fabbrica di guai e incidenti, come in queste settimane ci ha testimoniato più e più volte chi vive e lavora nella zona. Tutti i giorni, tutte le notti, tu senti il botto. Una volta a settimana c'è un incidente, o un motorino, o una macchina, o il tram, un incidente a settimana. Ho rotto la ruota, ho rotto il cerchione. Stanotte qualcuno ci è andato addosso. L'autore della lettera non fa che confermare queste testimonianze e conclude lanciando un appello ad Achille Variati con una domanda, cosa aspettiamo a rimediare a questo scempio? Bene, noi di Rete Veneta prendiamo l'impegno di portare questa lettera al sindaco Achille Variati a cui chiederemo una risposta. Quindi la questione per noi non finisce qui ma continua.